venire qua ragazzi ne fai nesso, rompo i mattonelli, sporco non te ok, fai notte ah, pure oggi abbiamo finito, caro che fare? è per bene, non mi chiedo, aspettate questo è per voi, arrivederci signor Roberto, mi scusate a San Benedetto, mi chiamo Dito Quale è un amico da mia mogliere, il signor Colombo mi resti che senza nuda ragione ha parlato è una povera e isabita che senza nuda che la difende una meschina, una nuda, una bisogna di nessuno, sto vicinando già l'affettai a casa è una altra famiglia io ci dissi che veniva a parlare con voi non si capisce la ragione e sapete se dove a fare i dissi sbarazzati da besci che cos'ha tutto sto casino e allora e per chi non può stare? non posso e per chi? non posso ma posso dire in siciliana? no, no, tocca la presa io io vado a mano a sto favore di un paesano a un'auto eh? ma già l'affettai? eh? eh? non ne posso fare malatori che non vincolino non deve pagare un'auto assai eh vabbè quanto pagano che assai un'auto? eh cinque scuola qua ci sono sei messi d'anticipo ma non ci legisci a niente aiuto è una cristiana orgogliosa e mi venisci a trovare un dannato sei messi e ma hai scelto un cane a prestare eh? eh? un cane a prestare questo cazzo questo cazzo questo cazzo questo cazzo si che stanno andando a casa non ordine a mia mano di comando oh puoi stare attenta a come parlo con me hai capiste? ma se no io quando c'ho un tuo cuore non sai quando ti manda sbattere andate faccio volare in tuo mezzo della strada andate a bai che fai questo piacere? spiegate questo io ho un muscolo e spiegazione la mia cittoria non ti sto vicinando da su io 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 ti tu sanno dire come io lo sace o fa a morire non sai bene niente non sai bene niente non sai bene niente non sai guarda a chi è toccato non arriva Vito quattro uno è arrivato Roberto sai chi doveva la casa dei soci io ti ho mandato tutto il quartiere mi saperebbe che grazie scusatemi spero che non puoi venne a sconcecare Don Vito e che posso fare Don Oberlo? come ne capimmo male ma nonna come ne capimmo male ma come? la signora Colombo puoi stare in ta casa? certo che puoi stare grazie 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 Don Vito io vorrei portare i soldi che mi ha rastro mi torno al reto uno due tre 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 tutti perché con Don Vito i soldi non servono mi porti a sentire mi porti a sentire? grazie la bontà sua la bontà sua di evitare la povera vitica ma mortafagava the rent stays like before anzi anzi ce levo cinque scuola ce levo va bene? 10 ce levo Don Vito 10 grazie grazie io ci posso offrire qualche cosa una tazza di caffè ma io voglio ma come vuole caffè? hai un appuntamento è tardi non porto stavolta una stavolta appena mi invitate venite mi diamo caffè parlamo non capite che sei un amico ma ora mi dovete scusare mi andate proprio a dire eh ho fatto molti nostri discorsi ma stavo da me da scusare perché io proprio ce l'ha fatto la buccante scala pure a mia mi piace stare con voi sapete perché ho capisco ho capisco che voi siete un amico vero con voi ma io stavo da proprio ma io sto a prenderne proprio vigno appena mi chiamate tu mi chiamate io arrivo a casa non dimentico ma ora proprio mi deve dire è tanto questa benedica non so come un' bercella nel moito non c'è francesco Vieni a parlare più forte, per favore.